Superare l'antropologia dell'homo economicus è oggi uno degli imperativi categorici per la ricerca economica, perché se nel passato ha dato risultati positivi, oggi è all'origine di gravi problemi. Due delle vie che suggerisco, la prima è quella propriamente culturale. Bisogna cercare di convincere i docenti, i ricercatori di economia a insegnare modelli comportamentali diversi e a scrivere libri diversi. Però non basta, bisogna agire anche sul secondo livello, che è quello delle pratiche. Cioè bisogna mostrare, soprattutto a coloro i quali non si occupano di ricerca economica, che un comportamento ispirato al principio di reciprocità e alla logica del bene comune, alla fine fa tornare i conti, fa stare meglio che non diversamente. Queste due vie si congiungono e sono certo che tra non molto finiranno col prevalere.